. Uomini e donne, Gemma sorprende, un messaggio per Giulia Delellis. Uomini e donne, Gemma Galgani e il messaggio a Giulia Delellis, che sorpresa. . Oggi, scopriamo che anche l'amatissima Gemma Galgani è una fan del reality show di Canale 5 condotto da Hilary Blasi. La storica dama del trono over di uomini e donne ha voluto dare il suo sostegno ad una delle concorrenti. Quanto pare, anche l'ex di Giorgio Manetti ha le idee chiare sulla persona che vorrebbe veder vincere la trasmissione. . Durante la diretta in onda lunedì 20 novembre 2017, la signora del parterre femminile dello studio di Maria De Filippi ha condiviso un messaggio del tutto inaspettato nei riguardo di una delle inquilini della casa più spiata d'Italia. . Gemma la scopriamo infatti fare il tipo per la bellissima Giulia Delellis. . Gemma Galgani ha spiazzato tutti i suoi followers e non solo pubblicando un post dedicato alla fidanzata di Andrea Damanta. . Le due si sono conosciute nel corso della speciale puntata di Uomini e donne andata in onda in prima serata la scorsa stagione. . La dama di Torino e l'ex corteggiatrice del trono classico si sfidarono infatti in una sfilata di moda. . Ricordi di una bellissima esperienza condivisa con tante persone, tra cui anche Giulia Delellis. . Giovane, garbata, diretta, la ragazza del popolo. . . Così ci piaci, forza Giulia insomma, la Galgani sa bene per chi fare il tifo al Grande Fratello Vip. . Intanto, però, la dama del trono over ha avuto delle bellissime parole anche nei confronti di Daniele Bossari. . 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 Brilla di luce pure, che in pochi anni. Forza Daniele! . Insomma, anche la dama di Uomini e Donne è una fan del Grande Fratello Vip. . 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